ciao a tutti bentornati o benvenuti su viking games tv oggi ho un leak succoso sugli amanti source like e di coloro che non hanno provato lords of the fallen siccome abbiamo delle un leak di un insider che ci dice che potrebbe arrivare a fine mese di maggio su xbox game pass disponibile a tutti coloro che hanno l'abbonamento su xbox non si sa ancora molto su queste informazioni non si sa se è vero perché la casa di sviluppo del gioco non è entrata ancora con delle informazioni sicure sulla cosa si specula anche che la versione 1.5 chiamata master of fate si verrà rilasciata effettivamente dal momento in cui il gioco arriverà su xbox così da diciamo presentarlo senza tutti i problemi che ci sono stati quando è stato rilasciato al day one staremo a vedere anche perché sinceramente è un'informazione scritta da un insider che si chiama exuter che sinceramente sono sempre voci di corridoio quindi non si può dare nulla per certo speriamo di sì perché sarebbe una gran bella cosa che arrivi sul game pass un gioco così anche perché non è brutto come giochi come gioco molti l'hanno giocato si sono divertiti speriamo arrivi nelle file di xbox così da poterlo provare sinceramente non lo proverò perché i souls like a me purtroppo sono dei giochi a cui ci vuole un tempo esageratamente grande per provarli e sono una cippa su questo genere di gioco quindi mi incacchierei soltanto e tirerei delle gran madonne preferirei non farlo e speriamo in bene signori su starfield may update abbiamo avuto diverse informazioni con aggiornamenti del gioco cosa consistono questi belli aggiornamenti innanzitutto bethesda ci ha lasciato delle informazioni riguardanti la mappa del mondo di gioco che è stata rimodulata e ricostruita fatto con un modello 3d da permetterci così di visualizzare bene cosa stiamo affrontando e i punti più interessanti sulla mappa e capirci un po di più che cosa sta succedendo perché effettivamente con le mappe che avevamo prima non si capiva un accidente di niente e come potete vedere qui dall'immagine adesso come adesso la cosa è cambiata vertiginosamente anche perché è una mappa del genere ci permette di capire che cosa andiamo ad affrontare e i punti di interesse più importanti e come vedete nel mondo di gioco mentre siamo lì riusciamo a vedere i punti di interesse magari da selezionarli per poi andare effettivamente a incontro a questi punti poi abbiamo questo bell'update che ci permette di aumentare diverse difficoltà mettiamola così all'interno del gioco permettendoci così di avere dell'esperienza in più oltre a questi bei cambiamenti che abbiamo avuto abbiamo avuto anche una questione di aggiornamento grafico all'interno del gioco cosa intendo con questo che le console dopo che verrà rilasciato il 15 maggio questa diciamo aggiornamento del gioco potranno essere finalmente a 60 fps grazie al signore perché un gioco così a 30 fps è godibile ma non nella sua totalità io l'ho giocato su pc infatti trovate qualche guida su questo canale l'ho reinstallato perché voglio vedere questi cambiamenti con i miei occhi perché alcune cose di questi update sono già state rilasciate a quanto ho capito voglio vedere che effettivamente siano delle buone cose e poi farò un video portandovi effettivamente i cambiamenti se sono consistenti oppure no inoltre hanno portato questa possibilità di modificare all'interno delle nostre navicelle come vogliamo noi ora non devi più scegliere un compartimento magari scientifico o cose simili semplicemente prendi un compartimento lo inserisci e poi metti dentro ci metti al suo interno ciò che ti interessa per il tuo gameplay compreso di banchi di lavoro camere da letto e potendo così arredarlo come più ci piace è molto più interessante così perché effettivamente il gioco col suo sistema di creazione delle navi mancava questo piccolo particolare che era poter modificare tutto all'interno come volevamo noi potevamo semplicemente prendere e spostare determinati oggetti ma non effettivamente crearli da zero e metterli dove volevamo noi poi hanno fatto una bellissima cosa hanno aggiornato il gioco con un sistema game plus più migliorando così dando la possibilità di poter creare e ricreare il nostro personaggio da capo quando fate un new game plus potete ripartire da zero col vostro personaggio partendo anche semplicemente dal fatto che potete cambiarli totalmente l'aspetto il background e molto altro ancora qui vi sta facendo vedere i cambiamenti che si potranno apportare all'interno della console potendo arrivare così a 60 fps senza problemi quindi diciamo che la questione qui alzo una polemica perché loro avevano detto che il gioco era in 30 fps per il semplice fatto che era una scelta artistica del gioco ora lo mettono a 60 fps quindi non era proprio una scelta artistica era una scelta del tipo non abbiamo tempo per migliorare le cose quindi diciamo che è una scelta artistica ai 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 betesda ste cose no però benvenuto 60 fps inoltre verranno inseriti alcuni veicoli all'interno del gioco uno che è stato visto che ve lo faccio vedere qui è stato il rover probabilmente avremo finalmente un veicolo che mi basta e avanza a non dover camminare 70 km verso l'obiettivo impiegarci 40 minuti in mezzo al nulla per poi dover tornare indietro al navicello ok ci sono una volta che hai raggiunto il punto hai il viaggio veloce ma sinceramente una palla con un veicolo almeno arrivare a determinati punti sarà molto più semplice e più veloce benvenuto anche a te rover ci voleva proprio al day one però ai ai signori oggi come oggi abbiamo delle informazioni su cose ed interessanti su xbox game showcase che sarà il 9 giugno alle 10 di mattina in america qui abbiamo un bel leak questo è lo stemma di call of duty quello nuovo signori quanta ciccia al fuoco c'è in questo showcase quest'anno abbiamo un showcase di blizzard betesda xbox e tante altre case terze che sicuramente vorranno metterci lo zampino e comparire in questo showcase vedremo tantissime informazioni su quello che è in arrivo xbox ha un mamma mia ha un minigun di informazioni da buttare sulla gente in questo giugno siccome c'è tantissima roba che è stata annunciata che poi è stata diciamo dimenticata che deve ancora che devono ancora arrivare nuove informazioni quindi non vedo l'ora questo probabilmente questo qui probabilmente è il logo del nuovo call of duty alcune persone alcuni insider hanno tipo tolto quel nero che c'è qui sopra quel nerino lì e sono riusciti diciamo così a ricreare l'immagine che a quanto sembra sia call of duty 5 sarà call of duty 5 il nuovo nome della e non magari un moderno affero così via inoltre ricordando anche che il progetto del nuovo code si chiamava project cerberus che nell'immagine noi abbiamo un cerbero che sarebbe un cane a tre teste questo signori vuol dire solo una gran bella cosa call of duty in arrivo su game pass ora non abbiamo informazioni quindi non possiamo speculare su tante cose ma non sarebbe male se arrivasse esclusivo no non esclusivo ma comunque al day one su xbox game pass vi rendete conto che se succede una cosa del genere la quantità di persone che vanno a mettere le mani sul game pass ci sono tantissimi giocatori che giocano a code che effettivamente non sono abbonati al game pass per il semplice fatto che si sono acquistati i code e giocano solo quello anche perché code è un gioco molto complesso devi imparare tante cose e se smetti di giocare ci perdi la mano la maggior parte dei giocatori che gioca a code difficilmente va a giocare anche altri giochi magari lo fa solo per passare un pochino il tempo ma diciamo che dopo quei due tre giorni che non ci gioca ci tornano e ci passano una vita e mezza quindi questa sarebbe dell'altra ciccia al fuoco per xbox portando così un hype assurdo e inoltre probabilmente verranno rilasciate anche alcune cose molto interessanti sui vecchi capitoli di code che saranno disponibili sul game pass ora non ho i leak esattamente qui ma vedendo altri video su youtube e leggendo altri articoli a quanto sembra alcuni alcune persone che partecipano del sistema xbox che fanno aggiornamenti anche con xbox hub e molto altro ancora hanno trovato alcune cose online mentre cercavano dei giochi da giocare hanno visto la disponibilità di call of duty su xbox game pass sul cloud gaming però una volta che ci cliccavi non riuscivi ad entrare nel gioco effettivamente che sia questo un test per vedere se riuscivano a metterlo un po così cioè secondo me c'è stato un errore di un qualche programmatore che mentre stava facendo alcuni aggiornamenti senza voler ha fatto uscire un codice che nel caso faceva vedere il gioco lì però già resta il fatto che effettivamente c'era molte persone lo hanno visto lo hanno riportato su diversi articoli e anche sui video su youtube che sia la possibilità che effettivamente code stia arrivando con il showcase perché potrebbe anche essere shadow droppato mentre va il showcase e mentre va il showcase lo dicano i giochi vecchi giochi di code sono già disponibile sul game pass se volete scaricateli e giocateli e in più in arrivo call of duty 5 che sarà disponibile al day one nella data tale dei tali per me dopo xbox non ha più bisogno di niente già xbox ha il mio favore perché diciamo che io sono una persona che gioco a tantissimi giochi nel senso che provo un gioco non mi piace lo troppo ne provo un altro e così via così riesco a provare diversi giochi può vederli com'è a volte anche se non mi piacciono però la storia non è male così via li finisco mi starebbe un po sulle balle a spendere magari 50 euro per prenderlo e poi giocarlo solo per finirlo e poi lasciarlo lì prendendo la polvere con xbox game pass io effettivamente posso andare prendere provarlo finirlo tanto posso finirlo tranquillamente anche nei miei tempi che chi se ne frega e il gioco comunque lì ho speso 15 euro e ho una libreria di giochi estremamente gigante signori finalmente abbiamo alcune informazioni su gear 6 colui che fa il doppiaggio di jd fenix cioè lion macklin tire ha risposto a un twitter a un fan che chiedeva se la morte di jd una delle due possibili scelte nella parte finale del gioco fosse canon ossia ufficiale e nella continuità del gioco per la serie dicendo che così non era non era effettivamente canon questa morte ma di del walker si quindi signori abbiamo effettivamente grosse possibilità che nel showcase ci sia anche gear 6 incrocio le dita perché gears è una delle mie serie preferite di sparatutto assieme ad halo e call of duty signori eccovi il trailer disponibile di stalker 2 che sarà disponibile il 5 settembre all'interno di xbox game pass quindi signori è un gioco che aspetto da veramente tanto siccome stalker il primo capitolo mi è piaciuto veramente tanto spero tantissimo dal secondo capitolo che alcune pecche che ci sono state nel primo siano effettivamente state modificate e migliorate la grafica sembra molto migliore del primo ma come sappiamo tutti per riuscire a valutare un titolo come si deve bisogna prima metterci le mani solo dal trailer si riescono a vedere poche cose ma si vede veramente tanto dal gioco inoltre come potete vedere ci sono anche dei trailer che possiamo trovare sul gameplay e sono sincero il gioco promette veramente tanto con un sistema di gioco molto buono un'intelligenza artificiale non troppo brillante ma non troppo stupida speriamo che questo gioco sia l'altezza delle aspettative spero veramente molto da questo gioco siccome il primo capitolo è stato veramente un capolavoro speriamo che anche il secondo sia la promessa che dovrebbe essere bene signori queste sono le informazioni che abbiamo avuto per oggi vi ringrazio di essere rimasti fino a qui lasciate il vostro like iscrivetevi al canale per darmi una mano a supportare il canale così da permettermi di portarvi sempre più video se volete aiutare ancora di più come sempre potete abbonarvi al costo di un euro vi ringrazio ancora ci vediamo nel prossimo video ciao